Con la mano le incursioni emiliane trafiggono l'Albatro, il blu-arancio battuti dalla rubiera. Inizia con una sconfitta il nuovo anno per la Team Network Albatro battuta la rubiera per 36-30. Se ne accusano i partiti con la consapevolezza di voler chiudere la pratica e qualificazione Coppa Italia, ma a richiamare tutta la realtà ci ha pensato la squadra emiliana spinta dalla coppia Casa della Santa e dalle incursioni di strada e Berlegui. Il 7 di Matteo Garralda ha retto il vantaggio del match per i primi 18 minuti, poi è stato un lento e costante crescendo degli uomini di Fusina che hanno chiuso il primo tempo con il punteggio di 20-17. Nella ripresa il Cricciano non cambia e i Siracusani non riescono a reagire per recuperare il match. Il blu-arancio pagano gli errori dai 7 metri e la difficoltà in certi frangenti a superare il blocco centrale della difesa locale. Illude il meno 2 che arriva per un paio di volte. Matteo Garralda cerca di dare la scorsa ai suoi, ma i richiami del tecnico Navarro non sortiscono quanto sperato. Rubiero porta a casa una vittoria che la rilancia in chiave salvezza. La team network Albatro avrà adesso la possibilità di riposare. Il match di sabato prossimo contro il Cassano è stato rinviato al 7 febbraio per ritrovare forma e morale. La qualificazione alla Coppa Italia attende soltanto la certezza matematica, ma in casa blu-arancio il campionato resta il principale obiettivo.